L'ultimo dei dieci appuntamenti in agenda dei teatri di San Severino ha visto protagonista lo scrittore, ma anche attore, sceneggiatore e regista Antonio Manzini e i romanzi All'amore l'amore e Gli ultimi giorni di quiete. Manzini è uno dei più noti e letti scrittori italiani contemporanei, anche grazie al successo che ha la serie tratta dai suoi romanzi, con protagonista Rocco Schiavone, che in tv ha il volto di Marco Giallini. Nell'incontro con il direttore Francesco Rapaccioni, lo scrittore racconta le vicende di All'amore l'amore, ultimo romanzo della serie del poliziotto romano trasferito in Valle d'Aosta, ed renta nei dettagli di Gli ultimi giorni di quiete, la sua recente pubblicazione, dove una vicenda di cronaca nera consente allo scrittore e ai lettori di porsi domande essenziali e nesauste sul ruolo della giustizia nella società e sul senso della giustizia nell'animo di ciascuno, oltre che un'analisi su sentimenti profondi e passioni inconfessabili e distruttrici. Ma scopriamo qualcosa di più sulla serie dedicata a Schiavone. Sai che è successo? Una cosa bella. Hanno tutti voluto bene a questi libri fin dall'inizio. Tutti. Dal primo all'ultimo. E questa è stata già una grande fortuna, perché comunque sentivo, mentre giravano, che c'era un grosso rispetto del libro e una voglia di farlo e di renderlo il più possibile aderente nel film. Ha detto bene, sono film, perché durano 100 minuti, quindi un'ora e 40, non sono proprio dei telefilm di mezz'ora. Questa è stata la fortuna che ho avuto di incontrare queste persone, tutte, tutte quelle che ci hanno lavorato.